Buongiorno orchidea di Murosolo, orchidea medicina per l'anima, vi ricordo sempre il nuovo libro Orchidea storie e personaggi, terza edizione, 369 pagine, a tre grandi pregi, questo poco è semplicissimo, l'ho scritto io, ormai sapete tutto. Oggi volevo parlarvi di un grande avvenimento che c'è stato in questi giorni, un nuovo genere di orchidei dedicato a Franco Pupulin. Finora c'erano due generi di orchidei dedicati a un italiano, che sappia io. Brassavola, del genere Brassavola, Brassavolo Dosa, Plagerare, cioè tutte le Brassavole, dedicato all'italiano che era Antonio Brassavola da Ferrara, che è nato nel 1500, è morto nel 1551, è stato un grandissimo medico, ma allora i medici erano anche botanici, perché curavano le malattie con le piante. Brassavola è stato anche un grandissimo botanico, è stato direttore dell'orto botanico di Padova, e nel 1800 un grande botanico inglese, Robert Brown, gli ha dedicato questo genere a lui che era già morto da quasi 300 anni. L'altro genere è Comparettia, che è dedicato a Andrea Comparetti del 1700. Anche lui era un nobile veneziano, che è stato anche professore di botanica a Padova, e due botanici austriaci gli hanno dedicato nel 1800 appunto questo genere a lui, anche lui morto da tempo. Generalmente i generi, anche le specie, ma soprattutto i generi, sono dedicati a dei grandissimi personaggi del campo della botanica, ma che sono morti, morti da tempo, che sono diventati storici. Sono rarissimi quelli dedicati a persone ancora vive, e quelle poche sono vecchissime, personaggi molto anziani. Invece Franco Publin ha 60 anni quest'anno, ma lo dimostra molto meno, perché li porta molto bene. Franco Publin è stato un grandissimo personaggio delle orchidee, lui è nato ed è cresciuto da Sisati, a 25 chilometri da casa mia, e poi nel 1997 si è trasferito in Costa Rica, dove è diventato, adesso lavora all'Università di Costa Rica, Giardini di Botanici Lancaster, all'Università di Costa Rica, e lì fa studio sulle orchidee, ed è diventato in questo campo uno dei primi al mondo. E questa orchidea qua, che prima era, si chiamava Plerotalis Suari, è stata rinclassificata a Pupolini a Suari, in onore di Franco Publin, perché era classificata Plerotalis Suari Luer, ma dopo si si rende conto che non è una Plerotalis, è diversa, ha tante caratteristiche diverse della Plerotalis, e non si adattava a nessun altro genere, per cui è stato creato questo nuovo genere, dedicandola a Franco Publin, appunto che è stato veramente un grandissimo botanico italiano, che siamo, dobbiamo essere orgogliosi di essere oggi uno dei più grandi botanici del mondo nel campo delle orchidee, è Franco Publin, dobbiamo essere orgogliosi di avere un italiano a questo livello. Adesso vi faccio vedere una foto bellissima, che ha fatto la moglie di Publin, qualche anno fa, quando era, ecco, quello sono io, con Franco Publin, nel 1993, con la prima edizione del libro Orchidea e storie dei personaggi. Vedete, l'ha fatto la moglie di Publin, appunto nel 1993, quando è venuto a casa per trovare i suoi genitori, ogni tanto viene e torna in Italia. Prima tornava tutti gli anni, perché aveva le figlie qua, piccole. Adesso le figlie sono diventate grandi, vanno a loro, loro vengono a casa molto più raramente. Allora, Franco Publin è stato, tra l'altro, collaboratore di Gardenia, teneva la pagina delle orchidee su Gardenia, negli anni, negli anni, inizio anni, fine di 80, inizio 90, per un po' di anni ha tenuto la pagina, ogni numero faceva un articolo sulle orchidee e ha fondato Lamo, l'associazione, una delle associazioni più belle di orchidopoli italiane. Poi, quando Publin è andato in Costa Rica, era lui l'anima dell'associazione, pian piano è andato a morire, perché finché c'era lui andava a gonfia vele. Quando lui è partito per in Costa Rica, cioè è andato via, era lui l'anima che la teneva in piedi. Però, dobbiamo essere veramente orgogliosi che, almeno in questo campo, abbiamo un grande personaggio italiano che si distingue proprio per la sua grande attività. Lui, una cosa di Franco Publin, mi ricordo quando era qui in Italia, praticamente era qui almeno due volte alla settimana. Lui era un perfezionista. Il suo scopo non era comprare le orchidee, era fotografarle e studiarle. Abbiamo comprato un'attrezzatura usata di un fotografo professionista, aveva due asseblad e in una giornata di lavoro, dalla mattina alla sera, quando andava bene faceva 7-8 fotografie, perché prima di fare le fotografie, mamma mia, stava lì a cercare la posa giusta, poi l'esposizione, casino. C'erano le fotografie, le orchidee che dovevano essere fotografate e che sbadigliavano anche loro per la noia. Mamma mia, lui mi diceva, mi parlava di filosofia zen e lui, per esempio, quando scriveva, scriveva così bene che sembrava scritto macchina e mi diceva, guarda, non è difficile. Se ti alleni a farlo, fare una cosa bene o farla male costa lo stesso. Cioè, ci vuole lo stesso tempo, per cui conviene farla bene. Ma io sono sempre stato casinista e non ho mai imparato a scrivere bene, ma lui è stato veramente un grande, perché aveva delle grandi doti. La prossima volta facciamo un altro video se frago popolino.